Sindaco, il Governo sembrerebbe orientato a prorogare lo Stato di emergenza fino al 31 anno? Io credo che la situazione della pandemia è una situazione che noi dobbiamo gestire con grande prudenza. Quello che noi vediamo fuori dall'Italia ci fa vedere, ci mostra come molti paesi siano in difficoltà. Pensiamo alla Germania, l'Inghilterra. L'Italia, grazie all'azione del Governo precedente di questo Governo, è riuscita a gestire la pandemia dal mio punto di vista in maniera eccellente. Quindi la prudenza non è mai troppa. Dobbiamo evitare che si rianimi la pandemia e riuscire a gestire questa nuova ondata. Io ritengo che sia opportuno. C'è possibilità di cambiamenti anche del periodo natalizio per Napoli, città? Stiamo riflettendo col Prefetto, teniamo sotto controllo giorno per giorno la situazione. In questa settimana avremo diversi incontri e quindi valuteremo. Anche su quello ci sarà una valutazione a fine settimana.